Raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, definire gli indirizzi strategici per implementare gli investimenti di una certa rilevanza in Puglia, facendola diventare il polo meridionale della logistica internazionale. Sono stati questi i temi al centro di EISUD, il ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, responsabile commerciale consulenza area sud e promosso da Ernst Young nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. Noi come EY stiamo monitorando questo fenomeno e stiamo gestendo questo tema come un fattore credito di successo da sviluppare, da monitorare e come un fattore di rischio da presidiare. Quindi per noi diventa fondamentale anche incontri di questo tipo sulla logistica proprio per creare un momento di riflessione sul tema. La Puglia sta vivendo un aumento considerevole di investimenti esteri, rivestendo sempre di più il ruolo chiave di piattaforma di scambio al centro del mar Mediterraneo. La logistica Un treno da non perdere, il titolo del talk, descrive il trend in positivo dell'intero comparto. In Puglia infatti si stimano 9.100 imprese e 58.000 addetti, sono numeri destinati a crescere. Non solo gli investimenti della vecchia programmazione, ma gli investimenti della nuova programmazione 21-27 unitamente ai fondi PNRR, complementari ovviamente alle finalità perseguite, hanno l'obiettivo di ottimizzare il modello di supporto alla logistica e al trasporto delle merci. Cercheremo di offrire una nuova prospettiva alla logistica. Abbiamo, si è appena conclusa a Grottaglie, la fiera dell'aerospazio pugliese, ma direi a questo punto italiana, perché non esistono fiere come questa. Abbiamo la possibilità come aeroporti di Puglia di accedere a delle nuove tecnologie, che sono tutte quelle dettate dal settore degli unmanned, ovvero dai droni senza piloti. Quindi vorremmo provare a disegnare quella che è la logistica dell'ultimo miglio del futuro. La regione ha approvato il piano regionale delle merci e della logistica, che definisce le linee guida per promuovere lo sviluppo del trasporto merci combinato strada-mare. La regione Puglia è una regione che oggi ha una serie di grandi opportunità da potersi giocare e giocarsi in maniera da protagonista. E poi abbiamo tutti questi eventi che sono accaduti, che sono negativi, però come in tutte le cose che sono complesse, che sono negative, hanno anche delle grandi opportunità. La vicenda di Israele, l'Ucraina, Suez, eccetera, portano, fanno ulteriori pressioni verso il reshoring, il fatto che le imprese possano rientrare in Europa. Però questa volta può essere veramente la frontiera, la nostra regione fra Oriente ed Occidente, e acquisire un ruolo determinante nello sviluppo dell'economia ormai del futuro.